Il giudice monocratico di Bari, Domenico Mascolo, ha condannato cinque imputati appena comprese tra i 18 e i 6 mesi di reclusione e ne ha assolti 13 al termine del processo di primo grado sulle due partite dei campionati di Serie B 2007-2008 e 2008-2009 Salernitana-Bari e Bari-Treviso, che per la procura sarebbero state vendute dai biancorossi per complessivi 220.000 euro. Gli imputati, ex giocatori e dirigenti di Bari-Salernitana e Treviso e il faccendiere del Bari Angelo Iacovelli, rispondevano di frode sportiva. Il solo Iacovelli, condannato a un anno e sei mesi di reclusione a 400 euro di multa, era imputato per favoreggiamento personale. Condanne a otto mesi di reclusione a 8.000 euro di multa per gli ex calciatori del Bari, Daniele Devezze, Vincenzo Santoruvo, Ivan Raicic, a 6 mesi e 6.000 euro di multa per Stefano Guberti. Tra gli assolti gli ex capitani del Bari, Jean-François Gillet e Francesco Caputo e l'ex biancorosso, Raffaele Bianco.